Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse al caffè espresso e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più 4-5 ore in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, puorli d'uovo, zucchero, caffè espresso, caffè solubile, colla di pesce, cacao amaro, granella di nocciole e latte. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, versiamo la panna e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola. Abbiamo lavate e asciugato bene il boccale, posizioniamo nuovamente la farfalla, mettiamo i tuorli e lo zucchero. Li facciamo montare senza misurino per 10 minuti a velocità 4. Aggiungere il caffè espresso, il caffè solubile ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4 e nel frattempo andremo a sciogliere in un pentolino la colla di pesce con il latte. Aggiungere la colla di pesce che abbiamo sciolto nel latte ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Versare nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente con la spadola. Trasferire stampi in monoporzione. Riporre in frigo per 4-5 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la mousse dal frigo, capovolgiamola su un piatto da portare e spolverizziamo con cacao amaro e granella di nocciole. Mousse al caffè espresso e cacao. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!